Mammud e Blanco vi aspettano per l'evento musicale dell'anno Eurovision Song Contest 2022 il 10, 12 e 14 maggio su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2 Cosa faresti se non facessi più il cantante? Schifo si può dire Cosa faresti se durante un concerto fossi attaccato da un gabbiano? Gli sparerei? Gli sparerei? Povero gabbiano Ha perduto la montagna Muerto Cosa faresti se ti svegliassi nel mio corpo? Mamma mia Cercherei le chiavi subito che uscite